Squadra al completo per prepararsi a questa sfida di venerdì contro Barcellona. Inutile nascondere che si tratta della partita dell'anno, la partita più importante della stagione regolare. I biancolosi sono pronti, tutto è pronto, non rimane quindi che arrivare a venerdì e vedere cosa dirà, cosa le sarà il verdetto del campo di questa importantissima sfida. È una partita decisamente importante anche per noi che è all'andata per Demo e ci teniamo alla rivalza, ma anche per il punto in cui siamo ora in classifica, vogliamo giocarci al meglio le nostre chance. Ci stiamo preparando per arrivare a venerdì nelle migliori condizioni possibili per avere maggiori chance di vittoria. Senti, il fatto di aver perso, quindi di avere due punti soli di vantaggio, la pressione della grande sfida, sono tutte cose che si avvertiranno in campo, potranno fare la differenza o come si dice una volta che si alza la palla a due e svanisce tutto? Io la guardo dal lato positivo, nel senso noi siamo a cinque giornate dalla fine che siamo i primi in classifica, che è una posizione che se fosse stata detta prima dell'inizio del campionato pochi ci avrebbero creduto. Perciò bisogna essere assolutamente soddisfatti di quello che si è fatto finora, ma anche desiderosi di voler continuare, di voler conquistare tutti i punti conquistabili da qui alla fine del campionato. Venerdì sera ritroverai Ardi, è piacevole immagino per l'amicizia che vi lega, però averlo come avversario non è proprio una cosa simpatica. No, Dwight è un giocatore dalle grandi capacità, in questo campionato ancora più evidenti, è un giocatore difficile da contenere perché sa fare canestro in tanti modi diversi, insomma mette sul campo tante cose diverse che fanno di lui quello che abbiamo visto l'anno scorso, insomma noi non ci concentreremo su di lui anche perché la loro squadra è formata da ottimi giocatori in tutti i reparti, il nostro piano sarà quello di fare le cose per avere le possibilità migliori per vincere la partita.